E mi invito davvero ad avvicinarvi con queste problematiche conoscendo l'argomento, avvicinarsi non criticamente ma studiare, capire quali veramente siano le cause che spingono milioni di esseri umani a spostarsi. Sicuramente nessuno si sposta per il gusto di spostarsi ma perché veramente le motivazioni sono tantissime, la miseria, la guerra, le persecuzioni. Adesso continuiamo la mattinata con teatro del gruppo popolare, con lo spettacolo nel mio paese, quindi buon proseguimento.